Il primo torneo Open Nazionale di Tennis Galdieri, organizzato dallo Sporting Tennis Club di Agropoli, si chiude con il segno positivo. Tantissimi iscritti, record in provincia di Salerno per un evento del genere. In ascesa il tennis femminile, lode a Cristina Inverso, l'organizzatrice che ha saputo coordinare il tutto nella splendida location dello Sporting Club di Agropoli, che si conferma sempre più spazio sportivo all'avanguardia e fiore all'occhiello della città. Vince il torneo, come dalle attese Enrico Fioravante, nella sezione femminile Giuseppina Miccio, anch'essa favorita, mentre Mike Stanco si conferma leader della quarta categoria. Soddisfatto il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, che insieme al presidente del Consiglio Comunale, Massimo Laporta, sono intervenuti alle premiazioni. Grazie naturalmente a Cristina, voglio dire che senza la passione le cose non si possono fare, quindi il primo elemento è certamente la passione che tu hai sempre dimostrato, quindi da parte della città di Agropoli voglio portarti ringraziamenti per l'impegno che hai profuso in questa manifestazione, perché sapete Agropoli ormai è universalmente riconosciuto come città dello sport e anche il tennis naturalmente di buon diritto deve avere il suo spazio e grazie associazioni come queste riusciamo ad ottenere ottimi risultati con l'impegno e con la passione che dicevo Cristina ci mette, quindi a lei da parte nostra sentito ringraziamento e ringraziamento naturalmente a tutti coloro che hanno partecipato, ci fa piacere che siamo tutti in città ad Agropoli a conoscere la nostra città, ci auguriamo che il giocatore o chi per esso è venuto a seguirci magari avrà piacere di tornare ad Agropoli, che Agropoli vuole diventare sempre di più la città dell'accoglienza e anche con eventi come questi noi ci facciamo conoscere, quindi facciamo conoscere le nostre ospitalità che avete trovato certamente qui allo Sporting Lab, una struttura ormai storica dove mi sono ormai anche io di fare qualche partita di tennis ed ecco prima con gli amici insomma che abbastanza bene me la cavavo, però oggi dicevo che insomma il tennis è un po' cambiato, c'è tutto questo gioco arrotato, io invece utilizzavo il piatto corde semplice, c'è un gioco di piatto, però diciamo le cose sono un po' cambiate, quindi magari con l'aiuto di Cristina posso pure tornare un po' io a dedicarmi a questo sport. Detto questo ancora grandi ringraziamenti e ci auguriamo di proseguire in questa direzione, trovi qui fin d'oggi la disponibilità per l'anno prossimo a fare un ragionamento insieme perché l'amministrazione ti vuole essere vicino e quindi siamo disponibili a darti un supporto per che l'anno prossimo il torneo sia ancora più importante, anche se quest'anno già avete raggiunti ottimi livelli, quindi ancora ringraziamenti e in bocca al lupo per il futuro.